Domus Aurea. I lavoratori chiedono le dimissioni dei vertici ASP. Qualche settimana fa alcuni dipendenti della Domus Aurea avevano mandato una lettera ai media dimostrando la loro vicinanza al titolare della struttura, l'avvocato Domenico De Santis, per la battaglia legale che sta facendo contro i vertici ASP e lamentando il silenzio delle istituzioni sulla situazione della struttura. Scrivevano Le istituzioni non ci ascoltano e la signora Latella non ha mai inteso concederci un colloquio. Non ci si può trovare senza posto di lavoro e alla fame dopo anni di sacrifici, solo perché si è deciso di denunciare le istituzioni carenti di capacità gestionali. La loro lettera non ha sortito l'effetto sperato evidentemente e quindi ieri mattina una decina di lavoratori ha deciso di protestare davanti alla prefettura di Catanzaro, chiedendo le dimissioni dei vertici dell'ASP di Catanzaro. Su alcuni dei cartelli si legge Il nostro pane è fondamentale, via la triade commissariale. La pandemia non è causa mia, l'inefficienza non può distruggere un'eccellenza. La triade commissariale ha fatto male, non resteremo più a guardare. Dalla fine di marzo del 2020, quando all'interno della struttura scoppiò un focolaio da Covid-19 e fu emesso provvedimento di sospensione dell'accreditamento e la chiusura della struttura, il titolare De Santis ha immediatamente reagito, presentando ricorso da lui vinto e in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato ha riaperto la struttura, ma la triade commissariale ha poi previsto la sospensione di cinque mesi in attesa delle deverifiche. Ed anche in quel caso De Santis ha fatto ricorso e ha vinto, ma nel frattempo l'ASP emetteva delibera, secondo cui, a seguito dell'ispezione fatta, la Domus Aurea non avrebbe requisiti per poter essere accreditata per il 2021 e non riconoscendo l'accreditamento neanche per il 2020, nonostante la sentenza del Consiglio di Stato, non gli sono stati liquidati i crediti per i primi tre mesi del 2020. Presente alla protesta, insieme ai lavoratori, anche il titolare De Santis ha affermato «Continuerò a lottare fino a quando giustizia sarà fatta. Queste persone da più di un anno si vedono private del salario, che deriva dal loro lavoro. Sebbene queste persone abbiano lottato insieme a me fino allo stremo delle forze per salvare le vite di chi, suo malgrado, era stato colpito da questo virus. E mentre noi lottavamo, qualcuno studiava a quale cavillo aggrapparsi per poterci revocare convenzione, autorizzazione ed accreditamento», ha continuato. «Non trovando nulla, si sono dovuti inventare il modo per chiuderci. Ciò nonostante, io so di aver fatto sempre il mio dovere e di aver operato con onestà, professionalità ed umanità. La mia coscienza è limpida e questo mi permette di continuare a lottare per vedere riconosciuti i miei diritti e quelli dei miei dipendenti, che non possono continuare a vivere senza il loro stipendio». Per Teleionio, Maria Caterina Sanzo.